Sono con noi Pierfrancesco Favino e Adriano Giannini! Pierfrancesco Favino e Adriano Giannini! Benvenuti, a che tempo che fa? Grazie mille! Prego, accomodatevi! No, vi ho parlato di questo film di Solli, ma è veramente importante, Adagio. Prego. Adesso ne parliamo, benvenuti. Buonasera, buonasera. Buonasera a voi, che piacere. Come sta? Ma io bene, lei? Benissimo, molto piacere. Ha visto Claudio prima? L'ho visto, l'ho baciato. Adesso non volevo entrare... Beh, ma l'ho fatto Sanremo insieme, sai quante volte sono baciati a Sanremo? Va bene, allora, no, dicevo... Ho detto due sex symbol, diciamo attori... Tre sex symbol. Sì, vabbè. Come te la vivi tu questa cosa? Accetto... Visto che siamo tra di noi. Accetto la realtà, accetto... A parte che in questo film non sei bellissimo. Ma io lo faccio apposta. Sì, è vero. Perché così poi dopo, sembra che sei sempre meglio. Al tuo è un po'... No, tu sei tu. Beh, insomma, anch'io... Hai preso qualche chilo nel film. Hai preso qualche chilo, ho cambiato qualcosa... Però... Gli occhi, eh... Sì, sono più io di lui. Vabbè, è il terzo film che fate insieme, no? Allora, noi ci siamo conosci... Vuoi sapere come ci siamo conosciuti? No, ho chiesto se era il terzo film, però se me lo vuoi dire, sì. Lo vuoi dire tu? Allora, noi ci siamo conosciuti, ormai una vita... Nel 1996. Eh, vabbè. Per il film Dolce Far Niente. Dove io facevo, lavoravo ancora dietro la macchina presa, facevo l'operatore. E Pierfrancesco faceva l'attore, ma era uno dei suoi primi film. Noi operatori già guardavamo questo giovane attore dicendo, questo è bravo, questo... Ah sì? Dicevate già qui. E mi ha fregato un paio di mutande. Esattamente. Stasera si scoprono delle cose pazzesche qua. Esattamente. Non ti lo capito, ad agio. Lui aveva, a un certo punto, girava una scena con Margherita Bui, una scena intima, e aveva queste bellissime mutande ottocentesche di un costumista francese del film, bravissimo. Christian Gask, si chiama. Esatto, si ricorda anche il nome. Lui si ricorda anche il nome. E tu ti ricordi il nome del mutand... Il mutandaro, quello che tu stai chiamando mutandaro, ha fatto un premio Oscar. No, Oscar, no, dico, di quello che ha fatto le mutande. E per carità ha fatto anche le mutande. Ah sì, no, però uno del premio Oscar si ricorda i costumi, non le mutande, insomma. No, le mutande le ne ricordo io perché erano bellissime. Sì, adesso come facciamo uscire da questo tunnel? Allora, finito il film, sostanzialmente, in questa scena dove lui era... È interessatissimo, Fabio. No, no, voglio vedere qua a casa, credo che... Il pubblico, secondo me... Vabbè, a fine film io ho chiesto a questo costumista premio Oscar, dico, ma quelle mutande che c'aveva in quella scena, Fabino, me le puoi dare? E ce l'ho ancora? Ce l'ho ancora, anzi... Adesso è bello vederle. Spero che le armi ha lavate. Per l'occasione le ho indossate stasera, ma non posso farvele vedere. Ma che avevano di particolare? Che avevano di... Beh, lo devi chiedere a lui. Beh, erano lunghe, al ginocchio, ottocentesche, con dei pizzi. Ma se tu vai a casa da lui, lui c'ha le mutande ottocentesche. Sai che non ti facevo così. Infatti, finiamola lì, non vorrei. Finiamola lì. Va bene. O che sia, è il terzo film che facciamo. Era quello. Però siamo amici da prima. Da prima. Dunque, da giovedì 14 dicembre esce nelle sale Adagio, appunto, come ha detto Filippa, ultimo nuovo film di Stefano Sollima, che completa in qualche modo la trilogia di Roma Criminale ed è un thriller poliziesco, ma non solo. Con un thriller è molto difficile fare la sinossi, il racconto della storia, perché si rischia di dire cose che non si devono dire. Anche se poi si va sui siti e c'è tutto. Oggi altrimenti c'è tutto, qualsiasi cosa. Quindi, volete farla voi, la sinossi? Vai tu, la sinossi. Allora, faccio una sinossi. Tu hai una. Racconto un po', secondo me, visto che poi i film vanno visti, racconto un po', secondo me, l'immaginario di Stefano Sollima. Io sono al terzo film con Stefano, tra l'altro, e di questa trilogia faccio anche parte. Certo, sì. E come sempre, Stefano Sollima si immagina e riesce a mettere in scena un'emozione attraverso quasi sempre degli elementi naturali. In questo caso c'è una città. Roma. Roma, che però potrebbe essere quasi un'isola che è circondata dalle fiamme. In Suburra c'era la pioggia. E ci sono dei personaggi che tutti quanti, loro, si agitano in questa emozione forte di avere intorno quasi questa fine del mondo che li circonda. E alcuni sono del tutto isolati, come se si stessero nascondendo, come se appartenessero al passato, come se non volessero neanche venire via da quel mondo. E altri, invece, sono più inseriti in questa realtà e hanno un altro tipo di funzione all'interno della nostra storia, fanno altri mestieri, hanno famiglia, anche loro. E poi c'è un ragazzino, un bambino, un giovane ragazzo, che si trova improvvisamente in una situazione complicata e difficile e che, senza saperlo, risveglia questa specie di animali vecchi che appartengono ad un'altra realtà che risentono l'odore della guerra e tornano in superficie. Che glielo vuoi dire a sta... No, io volevo... A sta sinos. No, io aiuterei un po' di più, se siete d'accordo, il pubblico. Va bene, però... Sì, no, così sei stato bravissimo. Sembro barbero. Sì, sembri barbero, è vero. No, però per aiutare un pochino di più... Secondo me, voglio dire, è una cosa che potrebbe... Grande. ...potrebbe interessante capire come certe cose nella realtà succedevano. Però, Adriano, per aiutare un po' di più il pubblico, diciamo questo, che c'è questa Roma in fiamme, questa Roma decadente, questa... Tanto tutto notturno, o la notte, le ombre che deformano qualsiasi cosa e chiunque, ci sono quello che resta di una banda criminale, da una parte i cattivi, apparentemente, dall'altra i buoni, che sono... Apparentemente. Apparentemente, che sono dei carabinieri in realtà che hanno tradito, e in mezzo c'è questo ragazzino che viene usato per ricattare qualcuno. Poi questo ragazzino, però, insomma, non ci sta più, viene quindi ricercato dagli apparentemente buoni, che in realtà sono i cattivi, e si deve rifugiare dai cattivi per cercare salvezza. S'hai capito? Perfetto. No, dì la verità, dì la verità. Io... A casa c'è un po' di cerchio alla testa. Va bene. Allora facciamo... I film vanno visti. I film vanno visti. Allora facciamo così, vediamo... È un gran thriller dove tutti inseguiamo questo bambino per motivi ragazzo, per motivi diversi. Questa vittima, in qualche modo, di tutti quanti viene inseguita da... Alla quale però è consegnata anche la speranza del futuro. Assolutamente, la speranza del futuro. Alla fine appunto, tu parlai prima di trilogia, secondo me questo è il film più intimo di Stefano. Assolutamente, no, sono d'accordo. Ed è una storia fondamentalmente di padri e figli. Come ti sei preparato a questo ruolo? Beh, allora intanto era determinante capire chi sono questi personaggi, questi poliziotti, carabinieri, questi dei reparti speciali, perché sono a tutti gli effetti dei soldati. e in quanto soldati, è interessante, vedi, in questa scena si vede proprio questa doppia... L'ambivalenza, sì, da una parte il padre... Sì, da una parte è un padre affettuoso, premuroso e dall'altra parte diventa veramente un killer senza alcuna remore. Ma queste persone che io ho incontrato, che forse tutti noi abbiamo incontrato nell'arco della nostra vita, dovendo fare questo tipo di ruoli... C'è loro, non io, loro, noi, noi che abbiamo a che fare... Tu in quanto sex symbol... Sex symbol, incontrerò, si incontrerò anch'io. È interessante perché veramente loro hanno una capacità di cambiare, cambiare immediatamente la loro percezione di quello che sta accadendo ed è come se parlandoci nel momento in cui loro diventano operativi per spiegarti qualcosa, nei loro occhi l'anima arretra, scompare. Riescono a scendere, insomma. Completamente, diventano altra cosa. Questo è interessante da capire perché poi quello che si frappone fra quel personaggio e il ragazzo è semplicemente un elemento da eliminare e forse anche il ragazzo stesso diventa un bersaglio e basta. Non più un ragazzo, non più una persona ma un bersaglio. No, no, no. Tu per il film hai dovuto perdere otto chili. Io l'ho preso. Come si fa? Otto e otto. E non mangi. Mangi meno. Mi faccio sempre seguire da una persona con cui lavoro su queste cose qua però insomma il personaggio esce di galera perché Ecco, chi è Cammello il personaggio che tu interpreti? Cammello è Romeo Baretta. È una figura non di spicco di qualche anno fa probabilmente una di quelli che nelle bande si sarebbero chiamati i cavalli quelli che ogni tanto andavano una figura di secondo piano tra virgolette non certo un capo ma detto Cammello perché è estremamente resistente si vocifera che lui abbia addirittura spaccato a testate un vetro blindato durante un processo è stato in manicogno criminale ed è uscito perché è malato perché ha poco futuro davanti a sé e l'unica finalità che avrebbe è quella alla fine di poter ricuocire i rapporti con sua moglie visto che succede una cosa nella loro storia che li separa che non diciamo posso dire il nome di Gianmarco Franchini che è il ragazzo di cui sto parlando è un attore bravissimo che fa Manuel è bravissimo Gianfranco no diciamo che però Cammello era nella stessa banda del padre di Manuel quando io dicevo prima questi sono tre uomini dimenticati sono tre uomini che hanno il personaggio di Valerio e il personaggio di Tony cioè Paul Newman e Daytona sono tre persone che hanno fatto parte di un ambiente ma che si sono Paul Newman Daytona e Cammello sono i soprannomi di questi tre reduci di questa banda che però si sono persi è come se fossero degli animali che sono andati a morire in un angolo in qualche modo è che campicchiano e vivicchiano di quelle che sono le regole della criminalità che ancora allunga loro qualche danaro ma certo non vogliono avere a che fare niente l'uno con l'altro e questo Manuel questo ragazzo diventa in qualche modo forzatamente il ponte tra loro tra loro tre è un mondo nascosto nel buio coperto dal buio apparentemente invisibile ma che è comune a tante grandi città io non penso si è parlato molto di Roma in realtà è veramente una città che potrebbe essere Gotham City è molto molto interesse anche all'estero per questo film sì ma potrebbe davvero essere Gotham City cioè qualsiasi metropola che in realtà è minacciata da ciò che c'è intorno a sé io onestissimamente ti devo dire Fabio che un pochino dal punto di vista emotivo questa cosa la sento anche oggi cioè ognuno di noi in qualche modo in questo momento è circondato da un fuoco immaginario intorno a noi e ognuno di noi ha la tendenza a volersi mettere in un altro io penso che Stefano è sempre stato molto bravo in questo riesce artisticamente a creare una condizione visiva che secondo me poi riporta un'emotività che ha a che fare col presente così siano le fiamme intorno a noi purtroppo è assolutamente vero e questo film adagio di Solli ma appunto tutto è deformato sono deformi personaggi il tuo cammello è un personaggio anche personaggio di Tony Tony Servillo Valerio bravissimo Valerio Mastandrea sono tutti proprio deformati deformi e deformati dalla realtà e che assomiglia un po' a un grande romanzo che è stato anche un film di Nathaniel West che si chiamava Il giorno della locusta dove c'erano queste fiamme che simbolicamente bruciavano allora Hollywood in qualche modo ma insomma bruciavano tutto ciò che era per purificare il marcio che c'è intorno e qui queste fiamme simboleggiano in qualche modo proprio questo cioè questo confine pericolosissimo mentre lavoravamo insieme a Stefano insieme a Mariano Tufano che è il costumista a Lorenzo Tamburini che è il truccatore a questa immagine che abbiamo creato insieme ho sempre pensato comunque a quel mondo di un po' di insetti che scappano nel momento in cui sentono il calore gli animali che riescono a sentire prima degli altri ci sono nel film gli uccelli che sentono questo ecco come se fosse un'emotività istintiva sono sono dei personaggi antichi sono dei personaggi che vengono da un altro mondo ed è come se le energie di questa storia venissero ritirati da questo ragazzo come se fosse veramente un corno di guerra antica che suona questo ragazzo in qualche modo rappresenta la redenzione per alcuni guarda se c'è un regista secondo me nel cinema italiano che non va in quella direzione è Stefano Stefano è un unico nel nostro cinema non ci sono pentimenti non c'è Gesù però il ragazzo in qualche modo mostra il lato buono di Capone però il ragazzo è una cosa molto importante secondo me il ragazzo fa da sé il ragazzo lo fa da sé ed è secondo me non c'è il bene in questo film ma io non credo che interessi a Stefano è una speranza di bene forse nel ragazzo sì senti io nel salutarvi volevo dire una cosa che questo film è stato ha avuto un'accoglienza bellissima a Venezia insomma è un momento molto bello per il cinema italiano io ho il piacere di vedere molti film e credo che sia un momento io posso dire una cosa prego questo è un momento straordinario per Paola aspetta fammelo dire però è un momento straordinario per Paola noi tutti dobbiamo ringraziare Paola di questo momento ma certo e come hai detto tu ad un altro bravissimo attore che è Antonio Albanese sì Albanese ci sono dei film per cui vale la pena uscire è quello che stavo dicendo l'ho detto Paola l'ho detto per Antonio lo dico per voi cioè è un momento in cui finalmente ci sono dei film per cui vale la pena uscire e andare a vederli al cinema senza aspettare che un giorno passi la colonna sonora di Sobsonica la fotografia di Paolo Carnera che è meravigliosa tu i meravigliosi tu Adriano le immagini girate proprio per quella ampiezza dello schermo e quindi insomma dal 14 di dicembre dillo tu ma aspettiamo al cinema ad agio grazie grazie Adriano grazie grazie a presto a presto grazie mille da quella parte da quella parte grazie 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 a tutti.